L'aggressione fisica di cui è stato vittima nei giorni scorsi il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Scalea Renato Bruno, colpito con calce e spintoni da due persone poi identificate dalle forze dell'ordine, sebbene sia pleonastico dirlo, va stigmatizzata con forza e quanto ha dichiarato il deputato del Movimento Pentastellato Massimo Misiti. È un atto grave che non può e non deve passare inosservato. Tutti i cittadini per bene di Scalea, prosegue Misiti, c'è la quasi totalità della popolazione prescindere dalla loro idea politica devono provare indignazione per un gesto così inqualificabile. La politica è impegno sociale e azione civica per il territorio e per chi lo abita. È evidente che, sottolinea il parlamentare, il consigliere Bruno sta facendo un ottimo lavoro e sta toccando nervi scoperti, punti poco chiari. A maggior ragione i cittadini di Scalea e non solo quelli che hanno votato 5 Stelle e che hanno a cuore il bene della loro città, conclude l'onorevole Misiti, hanno il dovere di non lasciare solo Bruno, ma anzi di sostenerlo nelle battaglie evidentemente giuste che sta conducendo per il bene del proprio comune e della propria gente.